ciao a tutte e a tutti nuovo video blog barra chiacchiericcio e dunque ragazzi miei ragazzi miei sto a prendere spunto da altri youtuber come voi anche come me anche se non mi definisco se riesco piano piano potrò anche se mi piacerebbe diventare un giorno una youtuber anche se ancora non lo sono mai dire mai allora cosa ti dico di bello scusate se sto tremando ma non sono non sono giù come se al piano di sopra perché così almeno posso registrare tutta la tromba perché appunto questa qua non è casa mia ma è nulla quindi questo piano qui è il piano di su sto registrando perché non più cose più più carine più belle allora oggi era una bella ma pare di sì sì sono uscita non dico dal lavoro è un tavolo normale della cucina questo benedetto video che ancora non sapevo bene come registrare e adesso mi è venuta in mente che cosa registrare soprattutto non vanno come vorrei però voglio provare a farli più scorrevoli possibile perché se non le faccio scorrevoli non sanno di niente quindi vabbè niente quindi che dire sperando che questi video vi possono piacere perché da prima che sto provando più volte e non riesco mai un po' perché ho il microfono che è una veramente osceno ma ogni tanto vedete ce l'ho qua questa parte non mi registra l'audio non capisco il microfono perché però sto parlando come se non ci fosse come se non avessi detto niente però vabbè no dicevo se l'audio non è male adesso quando vado a registrare a registrare scusate a guardare il video vedo cosa ho combinato innanzitutto non capisco se microfono l'ho messo in azione o meno spero di sì che l'audio del microfono sia migliore che la qualità del video sia giusta perché altrimenti non so più come fare ci voglio provare mille modi a montare bene il video ma soprattutto che venga un video di qualità che non tutti i video sono qualità anzi quasi nessuno dei i miei video sono di qualità a parte all'inizio che andrò più come dite voi più spigliata nel video di presentazione credo di essere stata più spigliata poi non lo so ditemi voi qua sotto i commenti e a proposito me lo dico nel bel mezzo del video se vi va mettetemi un bel like e un commento qua sotto perché se mi va anche se vi va o anche per il mio canale youtube ma anche perché vi interessa il mio canale youtube non lo so iscrivetevi a tutte quelle azioni dovete fare tutte e basta con tutte le notifiche attivate fate prima così non ho mangiato la pasta non mi interessa nessuno la pasta al ragù tra l'altro buonissima ragazzi come bisogno ho messo questi orecchini che sono bellissimi sono carinissimi erano mia madre anzi sono mia madre nonostante mia madre non c'è più ma che dio l'abbiamo e niente questi occhi orecchini qui di mia madre che non so quanto si possono vedere di mia madre eccolo qua bello 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 vedete nando a ok niente dunque che dire io sono qua registrare qui per questo video come appunto io non so perché con questa mamma devo stare ferma che possibile bugia sono uscita sì per andare a fare delle compre piccole compre come dire mi servono solo ai piatti e poi al fico secco quello che vabbè non lo so come si dice comunque quello due bei biscotti di pacchi di biscotti senz'altro al cocco che non mi ricordo come si chiama i twist no neanche non mi ricordo comunque se riesco ve li faccio vedere un altro video sempre se mi ricordo perché non è detto ogni volta voglio fare una cosa e non mi ricordo che me la bagno e mi dimentico di farvela vedere a voi o su instagram o direttamente direttamente qua su youtube vabbè diciamo star e instagram allora ho twitter nell'altro telefono però preferisco registrare con questo dovrebbe importarmi perché in qualche modo mi dovrebbe venire comodo per montare i video perché quando monti video con l'altro telefono che sarebbe l'iphone 7 si scarica non so quanto tenta a quanto registro perché poi ciao niente quindi non lo so ragazzi molto attenta quando registro a quanto registro e guardare l'ora però devo farlo perché sennò mi è tutto a posto tutto nelle normalità nella norma c'è gente giù o su non lo so dove a fianstra casa nel nostro palazzo che sta lavorando stanno facendo un sacco di lavori non mi ricordo di cosa perché non è che guardo più di tanto cosa fa diciamo che mi faccio più cavoli miei e quindi niente ho deciso che volevo fare come dico sempre c'è sono delle volte anzi non sto per guardarmi proprio li butto lì no non va bene quindi ho capito che non non piaccio a come dite voi a stringere quando devo parlare di una cosa non sto nero di sì se mi seguite io ho superato per melania trattino basso appunto mentre scuola ve lo dico quale l'infobox vi sbagliate anche ve lo scrivo l'opzione di condivisione vi linko anche il mio link perché ho visto stanno andando un po di persone bravissime e bravissime e nulla quasi sì allora cos'altro dirvi ah ve lo faccio vedere il mio outfit e ve lo faccio vedere il mio outfit ma ho questo qua questa maglia col cigno non so cosa si potrà mai vedere ho la maglia col cigno vedete c'è poco da vedere sono sempre i miei soliti infradito che si sono strano capisco sia blu o nero comunque questo era il mio outfit a presto un bacio like commento condivisione se vi va e noi ci si becca quando ho messo di così faccio una piccola foto tutto e ci vediamo prossimo video appunto ciao ciao